L'Invicta soffre a Trapani ma esce vittoriosa per 97-80 contro una Virtus agguerrita che corre, fa canestro e lotta fino all'ultimo secondo senza mai mollare. La squadra trapanese parte forte tenendo testa alla capolista nissena chiudendo il primo quarto 24 pari. I padroni di casa non mollano ma il calo fisico di alcuni giocatori e alcune super giocate dei nisseni consentono all'Invicta di portare a casa anche il terzo quarto e poi tutta la posta in palio. L'Invicta c'entra così la settima vittoria consecutiva, probabilmente la più sofferta insieme alla trasferta di Sant'Agata e resta più 4 sulla seconda dando un'ulteriore prova di maturità.